Variante Delta, 11 casi individuati a Napoli e quanto emerso su 35 tamponi analizzati relativi al 22-23 giugno. La scoperta è frutto di uno studio molecolare eseguito sull'RNA virale estratto dal materiale biologico di soggetti positivi al SARS-CoV-2. Intanto sono 117 nuovi infetti. Schianto automoto, muore Centauro Salernitano, un 30 senne di Angri è morto in un incidente nella notte nel territorio di Sant'Egidio del Monte Albino. Fatale lo scontro frontale contro un'auto a bordo della quale c'erano un 18enne di Pompei ed una coetanea di Scafati. Da Napoli a Firenze presi i rapinatori di Rolex, sono stati bloccati al casello autostradale mentre ritornavano dalla Toscana dopo l'ennesimo colpo. I carabinieri hanno arrestato sette persone accusate di rapina aggravata. La banda si spostava da Napoli per rapinare i turisti di orologi e gioielli. Maresca ai partiti, confronto sul programma, il centro-destra prova a ricucire gli strappi degli ultimi giorni dal PM appello ai partiti della coalizione. Priorità ai programmi dopo 30 anni di immobilismo e Manfredi smorza le polemiche tra De Luca e il governo. Solo fra non si arrende l'ospedale non si tocca. Il sindaco Vignola incontra il manager del Moscati Pizzuti e ribadisce la netta contrarietà. L'atto aziendale che prevede la chiusura del pronto soccorso dell'Andolfi. In Regione Ciampi del Movimento 5 Stelle accusa così si limita il diritto alla salute. Sagno, troppi sessantenni ancora non vaccinati. Ancora file disagio al Maxiab della caserma Pepicelli per i richiami del vaccino AstraZeneca. Intanto dal Sampio il direttore Ferranti avverte tra gli ultra sessantenni solo uno su tre vaccinato. Situazione preoccupante. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale lo avete appena sentito dai titoli individuati i nuovi casi di variante Delta a Napoli mentre sono 117 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore. Ma l'indomani dell'abolizione dell'obbligo delle mascherine all'aperto i cittadini si dividono. Ascoltiamo. Sono 117 nuovi contagi emersi dai 7371 test esaminati nelle ultime 24 ore in campagna con un'incidenza dell'1,58%. Cala inoltre sia il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva sia quelli in degenza ma l'attenzione resta alta per rintracciare la presenza delle varianti. Individuata la Delta su 11 tamponi positivi dei 35 analizzati relativi al 22 e 23 giugno a Napoli. Il risultato di uno studio molecolare seguito sull'RNA virale estratto dal materiale biologico di soggetti positivi al SARS-CoV-2 conferme che riguardano dunque il 30% dei casi esaminati come precisato dall'Asla Napoli 1 sottolineando che prosegue il sequenziamento per tutti i tamponi con esito positivo e si prova ad accelerare con la campagna di immunizzazione con nuovi open day per i vaccini senza prenotazione a Napoli. Ma l'indomani del primo giorno senza l'obbligo di mascherine all'aperto i cittadini si dividono sulle disposizioni più stringenti previste in Campania. Le regole vanno rispettate, certo può dare fastidio. Se è un obbligo continuare a metterle, noi le metteremo. Non so se me la sento ancora di toglierla. Misure che invece sorprendono chi arriva da fuori regione. Siamo arrivati solo ieri e no, non lo sapevo. Mi semperava che il decreto dal lunedì non era più obbligatorio. Intanto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha denunciato un nuovo episodio di violenza in ospedale, questa volta al pronto soccorso di Villa Betania. In questo caso, secondo quanto documentato dall'associazione, si è registrata la reazione violenta di un paziente trasportato dal 118 nel nosocomio del capoluogo. A Napoli, timidi segnali di ripresa per lo shopping su Via Toledo. Appello alla regione, chiarezza sulla data dei saldi. Piccoli e timidi segnali di ripresa per il commercio lungo Via Toledo, dove torna qualche turista e arriva una preziosa boccata d'ossigeno per i commercianti. Sullo sfondo è il caso dell'enigma start-up dei saldi. In campagna, infatti, ancora nessuna certezza per la partenza di quelli estivi. C'è una timida, timida ripresa che sta significando un po' di movimento sul territorio. Ci sta bloccando questa situazione di questi saldi. Questa data, che ancora non c'è stata confermata, quella del 3 luglio, mentre in altre regioni d'Italia è già stata confermata. Per fortuna, con la venuta dei turisti, c'è stato un bel incremento tutto il mese di giugno. Ci sono più persone per strada, hanno più voglia di spendere. Forse che si sono tolte un po' anche questa paura, diciamo, di questo maledetto virus. Molto meglio di prima. Con fronte a prima, che era un disastro, stiamo cominciando a vedere un po' di luce. Intanto i casi di variante indiana di coronavirus aumentano in campagna e con essi la paura di un nuovo temuto lockdown. Ci stiamo riprendendo e cerchiamo appunto di migliorare e non regredire, perché con questi contagi che si stanno rialzando per colpare questa variante, insomma, l'incubo di richiudere è sempre dietro la porta. Al via i vaccini per i migranti irregolari, la Campania tra le prime regioni a garantire l'accesso in piattaforma anche agli stranieri senza permesso di soggiorno. A Castelvolturno in poche ore già 250 adesioni presso l'ambulatorio di emergency. Anche la popolazione migrante della Campania ha iniziato la vaccinazione anti-Covid. La nostra regione è tra le prime in Italia a garantire il siero anche agli immigrati senza permesso di soggiorno. Gli stranieri residenti in Campania sono 255.000 e rappresentano il 4,5% della popolazione residente. Raggiungerli tutti, soprattutto gli irregolari, è stato fin dall'inizio un obiettivo della struttura regionale, in particolare dell'assessore alla sicurezza, il prefetto Mario Morcone, che ha studiato insieme alle associazioni dei territori il modo di garantire un accesso dignitoso alle cure con il codice STP e il codice ENI, che consentono di prenotarsi direttamente sulla piattaforma. Presso gli ambulatori di emergency a Castelvolturno, in poche ore, già 250 adesioni. Bene, siamo molto contenti che da due settimane sia stata aggiornata la piattaforma. Era una delle criticità che avevamo sottolineato alla regione. È sicuramente la soluzione più dignitosa. È veramente una grande conquista di civiltà. La possibilità di vaccinarsi nelle strutture dove si vaccinano tutti, di avere la certificazione. In questi giorni stiamo lavorando parecchio perché molta gente si rivolge a noi per avere appunto informazioni o anche aiuto per la prenotazione online. Per chi ha difficoltà per tutta una serie di motivi, non ha accesso a internet, non ha un'email, non ha un nuovo telefono, eccetera, può rivolgersi a noi, inseriamo i nostri dati e poi arriva a noi la comunicazione e noi la comunichiamo al paziente. Su tutta la provincia di Catetta se si riesce a vaccinare 15.000 persone è un ottimo risultato. Considera che in questo momento anche tanti italiani non si stanno più vaccinando. considera che è una popolazione giovane, però insomma piano piano stanno aumentando. Ancora sangue sulle strade salernitane. Mario Zingone, 36 anni di Angria, ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto sulla Statale 18 nel territorio del comune di Sant'Egidio del Monte Albino. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto che si è scontrata con un'auto. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Zingone, noto chef con esperienza all'estero, è morto in ospedale. Nella vettura c'erano un giovane di 18 anni originario di Pompei ed una coetanea di Scafati. Entrambi sono rimasti feriti ma non in maniera grave. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Sono stati bloccati a casello autostradale mentre ritornavano da Firenze dove avevano messo a segno l'ennesimo colpo. I carabinieri hanno arrestato sette persone accusate di rapina aggravata. La banda si spostava da Napoli nel capoluogo fiorentino per rapinare i passanti di orologi Rolex e gioielli. Vediamo. Da Napoli a Firenze i carabinieri hanno arrestato la banda di ladri in trasferta. I militari di Firenze e Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza nei confronti di sette persone, tre delle quali sono ancora ricercate, accusate di rapina aggravata in concorso. L'indagine è stata avviata ad aprile scorso. Due episodi di rapina contestati alla banda. Il primo è avvenuto a Firenze e l'altro a Torino, sempre a danno dei passanti. Utili agli investigatori sono state le telecamere che hanno ripreso la sequenza dei colpi messi a segno dalla banda composta da persone tra i 24 e i 53 anni attraverso un modus operandi, pianificando mirate trasferte giornaliere, muovendosi per lo più a bordo di furgoni presi a noleggio dove all'interno degli stessi vi erano almeno due moto di grossa cilindrata utilizzate per penitare le vittime e nel momento ritenuto più favorevole rapinarle degli orologi costosi. Le investigazioni hanno permesso di recuperare un orologio Rolex del valore commerciale di 10.000 euro provento della rapina perpetrata a Torino, rinvenuto nella disponibilità di alcuni componenti del gruppo sottoposti a controllo poco dopo l'evento criminoso lungo l'autostrada 1 nei pressi del casello di Firenze Sud, mentre stavano ritornando nel capoluogo campano. Il centro-destra napoletano prova a ricuscire gli strappi degli ultimi giorni da Maresca, appello ai partiti della coalizione per dare priorità ai programmi dopo 30 anni di immobilismo, le parole dell'ex PM, la Lega Media con Forza Italia e Fratelli d'Italia, intanto Manfredi smorza le polemiche tra De Luca e il governo. La mia priorità ha detto è il rilancio della città. Il servizio. Il centro-destra prova a mettere da parte il caos degli ultimi giorni in vista delle elezioni di Napoli. Il primo passo lo fa il candidato sindaco Catello Maresca, dal quale arriva un appello ai partiti per un confronto sui programmi. In un post pubblicato sul suo blog personale, l'ex PM chiede un cambiamento radicale per Napoli, condannata da 30 anni di immobilismo. Poi l'affondo contro Manfredi non è una cattiva persona, ma non è autonoma. Dovrà rispondere ai desiderata dei partiti romani che l'hanno imposto, la stilettata indirizzata al rivale. La Lega prova a mediare con Forza Italia e Fratelli d'Italia ad un passo dallo strappo dopo la lite proprio con Maresca sui simboli. Noi poniamo chiaramente la questione dell'unità del centro-destra, che per noi è un valore fondamentale. E l'invito agli amici di Fratelli d'Italia e Forza Italia è quello di continuare a costruire un'azione che possa consentire finalmente il cambiamento in questa città. Io credo che sia opportuno spostare la discussione dal tema dei simboli al tema del progetto. Il progetto per Napoli credo che ci veda tutti insieme. Intanto Gaetano Manfredi ha incontrato le associazioni LGBT della città, rilanciando l'impegno sul tema dei diritti. Dal candidato PD 5 Stelle l'invito ai Verdi ad entrare in coalizione. Il consigliere Borrelli ha demandato la decisione all'assemblea del partito. L'ex ministro ha glissato sulle polemiche tra De Luca e Speranza. La mia priorità è il rilancio della città, ha detto. E sullo scontro nel centro-destra con i partiti contro Maresca ha aggiunto. La presenza politica è importante per risolvere i problemi. Dopo gli arresti degli agenti accusati di torture sui detenuti a Santa Maria Capoavetere, il segretario generale della Wilpa De Fazio lancia la proposta delle bodycam, telecamere all'interno delle carceri per riprendere ogni fase operativa. Presto le telecamere per tenere sotto controllo l'operato degli agenti della polizia penitenziaria. Il segretario generale della Wilpa penitenziaria, Gennarino De Fazio, lancia una proposta, quella di dotare gli agenti di bodycam, telecamere che riprendono tutte le fasi operative. Attraverso le bodycam possono essere riprese tutte le fasi operative all'interno delle carceri, perché per conoscere il carcere, diceva Calamandrei, bisogna aver visto. E noi appunto vogliamo che si veda, non abbiamo nulla da nascondere. E rispetto alle accuse che la magistratura ha rivolto agli agenti arrestati a Santa Maria Capoavetere, dice... Se fosse vero anche la metà di quello che si scrive sui giornali, di quello che apprendiamo, sarebbe altrettanto gravissimo. Per cui nessuna giustificazione alle degenerazioni se ci sono stati. Noi crediamo di no, crediamo per carità qualcosa può essere successo, ma confidiamo che quasi tutti o tutti riescano a dimostrare la loro innocenza. Anche il garante dei detenuti della campagna, Samuele Ciambriello, intervenuto in una trasmissione radiofonica, ha commentato le parole di Salvini. Parla caldo, senza leggere le dodici pagine della procura, ha detto. Qui non si fa processo alle intenzioni. Salvini fa bene a chiedere giustizia attraverso gli avvocati, chieda i video. Il clima si deve rasserenare con l'accertamento della realtà. Il sindaco di Solofra incontra il manager del Moscati Pizzuti e ribadisce la netta contrarietà all'atto aziendale che prevede la chiusura del pronto soccorso dell'Andolfi. Il pronto soccorso non è incompatibile con la nascita di reparti specialistici. Lo ha ribadito con fermezza il sindaco di Solofra, Michele Vignola, all'incontro con il manager del Moscati, Renato Pizzuti. Il primo faccia a faccia dopo la grande manifestazione di piazza di giovedì scorso in difesa dell'Andolfi. Oggetto della riunione è l'atto aziendale e il parere di Vignola non poteva che essere negativo. Abbiamo sempre detto che dovevamo trasformare l'ospedale di Solofra in un ospedale da generalista in un ospedale con delle specialità per garantire all'Andolfi una prospettiva futura. Ma questo non è incompatibile, non lo era, infatti nel decreto 29 non lo era e per noi continua a esserlo. Non lo è incompatibile con la presenza di un presidio di pronto soccorso con un minimo di reparti di emergenza, urgenza. Così come accadeva prima, allora mi devono dire, allora fino a quando non è stato sospeso il pronto soccorso a causa del Covid le persone che andavano a pronto soccorso di Solofra erano in pericolo. E domani Vignola, Gianluca Fest, il consigliere regionale Petitto e l'onorevole del Basso De Caro si recheranno a Roma per incontrare il ministro Speranza. Se l'interlocuzione con la regione non produce effetti si cerca allora di battere la strada del governo. E allo Stato chiede di intervenire anche il deputato di Liberi Uguali, Federico Conte che sull'Andolfi ha presentato un'interrogazione. Nel frattempo in consiglio regionale si doveva votare la mozione del consigliere Ciampi che chiedeva la revoca della delibera della discordia. Al momento del voto però la maggioranza ha fatto cadere il numero legale. Amaro il commento dell'esponente Grillino. Enesima sceneggiata, la chiusura del pronto soccorso rappresenta un duro colpo al diritto alla salute. Consegnate 10 nuove licenze taxi a Salerno un'opportunità lavorativa per altrettante famiglie ma ci sono voluti 20 anni per ultimare la procedura commenta l'assessore Loffredo che aggiunge il nuovo aeroporto sarà la svolta turistica per la città. Vogliamo farci trovare pronti. Ascoltiamo. Un provvedimento atteso da 20 anni. Il comune di Salerno ha segnato 10 nuove licenze taxi ad altrettanti vincitori del bando indetto da Palazzo di Città. Un'opportunità lavorativa importante per i conducenti e le loro famiglie anche se centrare l'obiettivo non è stato semplice come ha spiegato l'assessore al commercio Dario Loffredo. Erano 20 anni che non facevamo un concorso di nuove licenze taxi. Ci è voluto 20 anni uno studio da parte dell'università, l'avvallo da parte di un comitato del consultivo, il ministero dei trasporti e alla fine siamo riusciti finalmente ad aggiudicare le prime licenze taxi. Ma l'obiettivo è che le nuove licenze, 8 già assegnate, altre due oggetto di ricorsi in graduatoria, capace di implementarsi con l'entrata in funzione del nuovo aeroporto e dunque dell'inizio di una nuova fase turistica per la città. Alcuni dicono sono poche, sono quelle che ci hanno permesso di fare gli studi perché sono loro che ci hanno dettato che noi più di 10, 12 non ne potevamo fare. Quindi oggi sono felice perché avevano aggiunto un obiettivo, perché 10 persone da oggi potranno iniziare la loro attività lavorativa, quindi ho visto i figli e i padri particolarmente felici, si percepiva. E sono felice nel mio piccolo perché ha raggiunto un obiettivo del mio assessorato che mi ero propista alla vigilia. Chiaramente ci auguriamo che con l'allungamento della pista dell'aeroporto, quindi col primo volo aereo nel 2024, potremo addirittura scorrere la graduatoria che assolutamente resta in vigore per legge per tre anni. A Benevento ancora file e disagi al Maxiab della caserma Pepicelli per i richiami del vaccino AstraZeneca. Intanto dal Sampio il direttore Ferrante avverte tra gli ultrasessantenni solo uno su tre è vaccinato, situazione preoccupante. Vediamo. Giornata impegnativa per la campagna vaccinale anti-covid nel Sannio presso il Maxiab di Viale Atlantici, azione intensa per completare i richiami di chi ha ricevuto le prime dosi del vaccino AstraZeneca. Non senza qualche difficoltà, con lunghe file, qualche disagio anche per via delle alte temperature. Intanto i dati dei contagi da covid migliorano sensibilmente e altri centri nel Sannio sono finalmente covid free. Libero dal coronavirus anche l'ospedale Sampio, ma la preoccupazione dei medici sale riguardo alla campagna vaccinale. Se si mantiene ancora questo effetto che gli ultrasessantenni si vaccinano uno su tre insomma diventa leggermente un po' potrebbe essere preoccupante in settembre-ottombre. La variante Delta ha un'alta contagiosità, ma c'è anche il problema che c'è una fascia che è scoperta. Se non si riempie quella fascia scoperta, vale a dire che noi potremo avere non più ultraottantenni ricoverati, ma ultraessantenni o anche di età ancora più giovane. Insomma, attenzione è ancora altissima presso l'ospedale che non smette di tenere alta la guardia. Il patiglione non è smantellato, si mantengono dei posti attivi sperando che non si utilizzino. La morte in Irpinia della psichiatra è ritrovata ieri senza vita nella piscina della sua abitazione a far chiarezza l'autopsia delle prossime ore. Vediamo. Improvviso malore o suicidio, questa è l'ipotesi alla base della morte di Antonella Bruno, 61enne psichiatra e psicoterapeuta, ritrovata senza vita nella piscina della sua abitazione a Via Nazionale Torrette, a Mercogliano, a pochi passi dal viadotto della variante. Il ritrovamento ieri mattina, all'alba, la casa della 61enne si trova al pian terreno di questo palazzo. È stato un condomino a lanciare l'allarme dopo aver notato il cadavere nell'acqua. Nelle prossime ore sarà l'autopsia, affidata al medico legale Carmen Sementa, a chiarire con esattezza la causa della morte. Intanto la ricorda così il dottor Pietro Bianco, psichiatra dell'ASL, che con la Bruno ha condiviso tanti anni di lavoro gomito a gomito. Era una brillante professionista, aveva portato avanti tante battaglie a favore dei consultori, anche se nella sua vita non erano mancati momenti di difficoltà. Una ventina d'anni fa era stata sfiorata dalla depressione. Al di là del dispiacere per questo epilogo così tragico, così drammatico, che si iscrive alla fine di una vita difficile da parte della dottoressa Bruno, che era un medico brillante, formato e una psichiatra altrettanto importante, solo che nel corso degli anni qualche problemina psicologica l'ha avuto, ma per esperienze personali che non sono andate per il verso giusto. affidabile, sicura, preparata, che riusciva anche a controllare il suo, diciamo così, contro-transfer, le sue componenti psicologiche, ed era una psichiatra assolutamente affidabile, anche se poi decise, perlomeno 7-8 anni fa, di dedicarsi ad altro. Il San Pio di Benevento, eccellenza sul fronte della prevenzione e della cura delle malattie reumatiche con reparti di degenza e diagnosi. A Benevento, presso l'azienda ospedaliera San Pio, la giornata mondiale della sclerodermia, malattia autoimmune grave, che purtroppo conta pochi centri di eccellenza in Italia. Benevento e Potenza, gli unici due reparti allestiti al centro-sud. Reparto, quello presso l'azienda ospedaliera San Nita, che sarà potenziato ancora di più e che presto avrà un direttore, grazie ad un concorso che sarà bandito. Una giornata di prevenzione per la sclerosi sistemica, con diagnosi precoce e cure all'avanguardia. Punti di forza della struttura sanitaria di Benevento di reumatologia. È una malattia rara, è una malattia autoimmune. Sono colpite circa 25.000 persone al momento in Italia. Noi abbiamo in carico un bel numero di pazienti, provenienti anche da fuori regione e da fuori provincia. E questo perché abbiamo un ambulatorio dedicato per la sclerosi sistemica, nell'ambito del quale è possibile fare una diagnosi precoce, è possibile effettuare una metodica, che è la videocapillaroscopia. Abbiamo dei posti letto di ricovero ordinario dedicati, abbiamo dei ospital dove i pazienti effettuano delle terapie salva vita. Ospite della giornata, la produttrice musicale, volto noto dello spettacolo Mara Maionchi. Io vi faccio tutti i miei migliori auguri per un ottimo lavoro, per un'attima soluzione il più possibile vicina alla fine di questa malattia e di migliorare sempre di più, cercare degli aiuti che facciano vivere bene le persone. È previsto per domani in prefettura un tavolo tecnico per risolvere i problemi di viabilità riscontrati nello scorso weekend sulla Cilentana, nel tratto tra Agropoli Nord e Agropoli Sud. Il sindaco Coppola assicura troveremo una soluzione per evitare un altro weekend da incubo. Un tavolo tecnico per evitare il ripetersi dei gravi disagi che nello scorso weekend hanno riguardato la viabilità lungo la statale Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli. A convocarlo è stato il prefetto di Salerno, Francesco Russo, che domani insieme al sindaco Adamo Coppola e ai rappresentanti della regione all'ANAS cercherà di trovare una soluzione. Da interlocuzioni che la prefettura ha avuto, che ha avuto anche il consigliere Cascone delegato ai trasporti, rispetto a questa problematica abbiamo saputo che ANAS già ha soluzioni rapide per risolvere il problema e soprattutto per la messa in sicurezza, per poi eventualmente rimandare i lavori completi in un momento diverso, in un momento in cui non c'è naturalmente tutto questo traffico sulla statale. Il timore generale, infatti, è che i lavori in corso sulla Cilentana possano mandare ulteriormente in tilt la viabilità, soprattutto nei fini settimana, quando la statale è percorsa da migliaia e migliaia di vacanzieri. Ho dovuto subire in questi giorni anche degli attacchi miliatici che davano delle responsabilità a me quando io evidentemente non ne ho su un tratto di strada che non è naturalmente di nostra competenza. però chiusa, messa una pietra sopra, mercoledì ci vediamo, risolviamo il problema immediatamente e cercando di evitare un altro cliente così perché per la nostra città è stato un disastro sabato e domenica che è appena trascorso. Quindi ci auguriamo che il prossimo cliente non abbia più questo problema in modo tale da poter affrontare l'estate senza ulteriori preoccupazioni, ne abbiamo già tante. Anche il comune di Avellino dice no all'impianto dei rifiuti a Chianche. Il comune di Avellino esce allo scoperto sul biodigestore di Chianche e dice no all'impianto dei rifiuti tra i vitigni del greco di Tufo. A ribadirlo dopo l'assenza del consigliere Giacobbe al consiglio d'ambito del lato sabato scorso il sindaco festa nella consueta diretta Facebook del lunedì. La nostra assenza non è stata casuale. Io ho già manifestato in più di una occasione la non condivisione di Chianche per realizzare un sito di compostaggio. Altri personaggi, più o meno personaggi politici locali hanno nei mesi scorsi assunto impegni con la comunità. Vedremo fino a che punto saranno conseguenziali e fino a che punto invece non saranno chiamati dal solito casato salernitano per rispondere obbedisco. Io mantengo la mia coerenza. E anche gli ambientalisti continuano ad opporsi fermamente. C'è una bocciatura del Tar e come se non bastasse dicono la viabilità di quel progetto è inadeguata e il finanziamento incongruente. Intanto festa ieri sera ha annunciato anche un'altra novità. Via libera allo statuto della fondazione dei luoghi della cultura. L'amministrazione ha approvato l'ossatura del nuovo soggetto giuridico che gestirà le strutture a vocazione culturale della città. Per il momento si parte dal teatro Gesualdo e dall'ex Eliseo. Ma stiamo anche immaginando poi di poter far gestire altre strutture non solo in questa prima fase ma anche in prospettiva viene in mente ad esempio il castello. Sono oltre 40 gli appuntamenti previsti dal cartellone Vietricultura estate 2021 presentato questa mattina al comune di Vietri sul mare. Tre rassegne culturali per rilanciare Vietri sul mare e allietare le serate dei turisti che sceglieranno di soggiornare nella città che apre le porte alla costiera malfitana. Gli oltre 40 appuntamenti previsti dal programma Vietricultura estate 2021 sono stati presentati dall'amministrazione comunale a Palazzo di Città. Per riparte i Vietri in Scena saranno oltre 40 le serate dislocate su tutto il territorio tra la Villa Comunale, Marina di Vietri ma anche su tutte le frazioni del nostro splendido paese. Un ricco calendario di spettacoli musicali e teatrali promosso dall'assessorato alla cultura, turismo e spettacolo retto da Antonello Capozzolo. Vietri in Scena che sderà durante il mese di luglio musica classica, musica da camera jazz con la novità quest'anno di Vietri in Pop con Loretta Martinez quindi c'è Made in Vietri seconda edizione durante il mese di agosto che in pratica ripropone la formula precedente e quindi di far lavorare gli artisti vietresi poi c'è Vietri il mare chiama la novità di quest'anno che rappresenta appunto un nostro fiore all'occhiello ed è in pratica sono degli incontri teatrali sulla spiaggia La Bella e la Voce quindi un concorso nazionale che prevede la partecipazione di giovani e ragazze che si propongono diciamo così per un ruolo nel mondo della moda volti nuovi per cinema e televisione quindi c'è stata classica che quest'anno giunge la decima edizione il premio Vietri legato agli articoli della costruzione e il premio letterale nazionale Borgo Albori E con questo è tutto il TG News termina qui ora ci sono le previsioni meteo grazie per averci seguito e a voi tutti un buon proseguimento di sera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti